Ciao Mario, grazie per avermi dato la linea. In questo momento sono con Irama. Ciao. Come stai? Io bene, grazie. Tu come stai? Bene, bene, grazie. Ci siamo? Manca poco. Pochissimo. Come ti senti? Bene, emozionato. E' sempre una grande... Cioè tu quel palco un po' lo conosci, bisogna dirlo, no? Un pochino. Possiamo dire che una parte della tua carriera arriva anche da lì, no? Nel 2016 tu partecipi tra i giovani. Si è partita, è iniziata da lì, diciamo. E che ricordo hai tu di quella volta là? Beh, è stato un anno particolare. Mi ricordo... È stata una sfida particolare. È stato bello, è stata la prima volta che mi sono accorto che c'era un pubblico, quindi un grande televoto che mi sosteneva in quel momento. E per me quello era stato forse l'onore e un po' la magia di quel momento. E poi è stata la mia prima esperienza dal vivo, quindi la prima volta che cantavo live dal vivo, mi esibivo sul palco. Cioè, partire con una cosa così è una trapia d'urto, praticamente. Sì, è stata una montagna russa immediata. Adesso cos'è cambiata? È molta più consapevolezza, palchi grandi neanche fatti, penso sia un pochino diverso il discorso, anche se... Anche se, sì, perché dai, Sanremo comunque non è in sé il palco, ma è un po' quello che rappresenta, no? Quindi Sanremo porta un po' un'istituzione, un po' un'istituzione italiana, quindi diciamo che salire sul palco... In tutto il mondo poi, perché... Sì, è sempre un'emozione grande, ma poi diciamo che spero anche di non perderla, questa emozione, perché è anche un po' quella scintilla, no? Che ti fa salire sul palco e ti fa avere anche quella paura che ti fa tirar fuori l'emozione quando serve. Quell'adrenalina, no? Quella storia lì che serve sempre. Sì, è un mix. Poi ognuno la vive in modo diverso, sicuramente. Il palco ognuno ha un modo diverso per prenderlo. Tu come te lo vivi? Dipende, dipende che palco è, dipende dove sono. Cambia tanto tra un mio live e un live, per esempio, a Sanremo. A Sanremo è più un'esibizione e basta, uno shot, quindi a volte non hai neanche tanto il tempo di raccontare tutto, se sei abituato a fare un concerto. Dall'altra parte però, essendo anche così breve e anche stanche forse nell'artista, anche nella bravura poi dell'artista, cercare di scongelare un'emozione così rapidamente. E sì, ti giochi tutto lì, in quei pochi minuti, diciamo. Sì, metaforicamente sì, ti giochi tutto lì, nel senso a livello emozionale sì, ti giochi subito, le emozioni le giochi tutte lì. E poi una platea talmente grande, come dicevi giustamente, ai tuoi live vengono tutti i tuoi fan, lì hai una platea in cui c'è di tutto. Si spera anche molte persone che poi ti apprezzino. Speriamo. No, vabbè, ti immagini? No, no, ma non è mai capitato, non capiterà. Non lo so, vabbè, al massimo sorrido. Parliamo un po' della canzone. La canzone si chiama Tu No, è una canzone a cui tengo tantissimo, è una canzone a cui sono legato veramente molto da un punto di vista emotivo. Forse è la canzone nell'ultimo periodo che ho scritto più emotiva e quindi mi sembrava giusto raccontarla su un palco così importante. Sono stato felice di essere stato accolto su questo palco, quindi dai, non vedo l'ora di salire. Diciamo che la canzone dentro racchiude un significato che rappresenta un po', ecco, la mancanza, la distanza. Cerca di dare un po', con un linguaggio un po' universale, un messaggio anche abbastanza crudo e diretto. Beh, ci sta. Sono stato esaustivo, più o meno, mamma mia, faccio una fatica a spiegare le canzoni. Pensavo meno. Pensavi peggio. Pensavo molto, cioè che volessi stare più stringendo. Sono sempre ermetico. Perché io faccio fatica. Non mi piace di essere lasciato andare. Hai visto, ci ho provato. Mi è piaciuto molto. Infatti, va bene, allora ci vediamo a Sanremo. Grazie mille, Rama. Grazie a te, ciao a tutti. Grazie mille.